E' il mio nome di servizio. Si chiama Grimaldi. L'ingegnere sta qua a Roma. Sono le sue mani. E' la prima volta che le muoiono. Ti ha molto dolore? No, nel modo più assoluto. Lei mi ha mentito. Lei non mi ha chiesto niente. Ieri sono venuti i carabinieri. Hanno chiesto di lei. A volte non si capisce. Non possiamo sapere qual è il limite del nostro intervento. Non c'è una regola. Non c'è una regola. Io ce l'ho una regola. Io credo in quello che faccio. E' un'altra regola. Io ce l'ho una regola. Grazie a tutti.